La 14esima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Abbiamo ora l'eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, recupero, crediti. Prepariamoci a fare un bel applauso a San Giorgio Servizi. Ed eccoli qua in primissima fila, ma si allontanano per poter fare tutta la nostra promenade. E allora San Giorgio Servizi ha un'eccellenza per quale motivo? Per distinguersi, grazie alle capacità di combinare un'esperienza consolidata con un approccio innovativo, sviluppando strategie efficaci e sostenibili per il rintraccio e recupero dei beni su tutto il territorio nazionale e internazionale. Per la leadership lungimirante, che garantisce ai propri clienti risultati concreti e tempestivi attraverso un servizio personalizzato, etico e innovativo. Tutto questo è San Giorgio Servizi. Ed ecco, bravissimi, giustamente il tavolo applaude. Complimenti per la vostra attività. Stasera siamo in compagnia del dottor Marcello Gambardella e del dottor Salvatore Palumbo, che sono rispettivamente il CEO e il Director of Operation della società San Giorgio Servizi, con sede a Genova. La vostra società si occupa principalmente del recupero dei beni e dei crediti, in Italia e all'estero, e della gestione dei sinistri assicurativi. Una domanda per il dottor Gambardella. Quali sono i punti di forza della vostra attività e cosa vi distingue dai competitor? Guardi, innanzitutto, la caratteristica principale della nostra azienda è quella di non avere a riferimento la corsa ai competitor. Nel senso che negli ultimi anni il nostro obiettivo è stato quello di porci sul mercato come un punto di riferimento per i nostri clienti, essere capaci di innovarci continuamente, migliorare i nostri processi aziendali e mi faccia dire, in un momento in cui evidentemente le situazioni lavorative sono sempre più complessi, i rapporti di lavoro sono sempre più complessi, avere un focus importante sul benessere dei nostri colleghi, perché è funzionale evidentemente a garantire un servizio di qualità alle nostre committenti. Siamo un'azienda di servizi, non facciamo produzione di beni e nei servizi la qualità delle persone e la soddisfazione dei nostri colleghi e quindi delle persone impegnate in azienda è fondamentale per dare quel plus alla nostra attività. In più vi è sicuramente stato un effort negli ultimi sei anni, una nuova generazione imprenditoriale che questa azienda l'ha presa portandola dalla storia, dalla tradizione da cui viene verso un futuro che noi auspichiamo essere sempre più glorioso che ha avuto come obiettivo fondamentale quello di andare a efficientare i processi di lavoro, quindi con un'innovazione tecnologica che ha in qualche modo migliorato ulteriormente la nostra qualità, il nostro profilo professionale. Quindi il punto di forza è sicuramente attenzione e dedizione, direi compassione alle esigenze del cliente, innovazione tecnologica, attenzione ai bisogni delle nostre persone. Invece dottor Palumbo, come riuscite a combinare in modo efficace esperienza e innovazione? C'è un'operazione di recupero particolarmente complessa che vuole raccontarci? Sì, diciamo che è un'operazione di recupero che poi è un esempio lampante di come uniamo l'esperienza che ormai è pluriannale, all'innovazione molto recente, riguarda il recupero di una vettura, un incarico ricevuto da una delle nostre committenti, una vettura pronta ad essere espatriata in maniera fraudolenta. L'esito di questa attività è stato positivo, ma c'erano dei segnali, quindi qui entra in gioco la nostra esperienza, che ci indicavano che probabilmente l'attività sarebbe stata più ampia e avevamo ragione, in buona sostanza. L'impatto di questo evento riguardava un'intera flotta di veicoli che grazie alla strumentazione tecnologica di cui la nostra azienda è dotata ha permesso di completare questa operazione di recupero. Veicoli che stavano per essere espatriati in Mediorente, diciamo l'operazione si è conclusa in maniera positiva. Stasera avete ricevuto l'Award delle Fonti per la vostra posizione di eccellenza nel settore del recupero dei beni. Cosa rappresenta per voi questo premio? Torneresti qualora la nostra giudia vi ricandidasse? Ma diciamo che ricevere questo premio ci rende particolarmente orgogliosi. Noi abbiamo l'obiettivo nel nostro quotidiano di soddisfare la nostra clientela, di soddisfare noi stessi. Abbiamo un'attività che è complessa, particolare e il fatto di ricevere questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi perché vuol dire che quello che stiamo facendo nel nostro quotidiano non solo soddisfa i nostri clienti ma ha un impatto su una platea molto più ampia e questo chiaramente ci dà notevole soddisfazione. Ed ovviamente sì, per rispondere alla sua seconda domanda, qualora la giuria intendesse ricandidarci per questo premio, senza altro con lo stesso spirito, con lo stesso orgoglio, con la stessa energia, torneremmo piacevolmente a trovarvi. Ora una domanda sul futuro. Quali sono i vostri obiettivi nel medio e nel lungo termine? Le dico che l'azienda ha sicuramente come obiettivo, come tutte le imprese, quello di potenziare la propria posizione di mercato, che debbo dire è già tangibilmente di rilevanza. Sicuramente nel medio termine abbiamo dei progetti che con il mio direttore operativo stiamo sviluppando di ulteriore miglioramento dei nostri processi di lavoro, dei nostri processi aziendali, che necessariamente, sono assolutamente convinto, ci porteranno ad essere sempre di più un punto di riferimento nel nostro settore. Nel lungo periodo il desiderio, intanto ribadisco l'importanza delle persone che collaborano con noi, è avere la possibilità di allargare ancora di più la famiglia di San Giorgio Servizi, portare a bordo altre persone che possano portarci le loro idee, la loro passione e il loro contributo nel sviluppare ancora di più e sempre più importante la nostra realtà.